E' un giorno davvero speciale quando si affrontano due squadre della stessa città, ma è ancora più speciale se il palcoscenico è uno stadio come questo e se il sipario si affrontano due squadre come Inter e Milano. E' qui? Victor Ozsime! La recibe! Lo envia in diagonal hacia la banda. L'uomo è più spazzato. E' da' un problema in troppo. E' un problema in cui è stato un problema. L'allez a secca. L'allez a secca. L'uomo è il campo di competenze. e il nuovo passaggio Questa potrebbe lasciare qualche risido Attenzione, attenzione, qui c'è una rissa Brahim Diaz, palla al centro Impatta di testa Sì, è entrata Raffaello col capolavoro La mette in avanti Che pallone gli ha dato È tutto solo davanti alla porta Tiro di Lautaro Martinez Un gol spazzesco, pazzesco Conami Grazie a tutti Grazie a tutti